Principi di frane, smottamenti, crepe che si aprono nei palazzi. Lo stress idrico delle ultime settimane ha colpito anche Chieti, aggravando la situazione di estrema vulnerabilità idrogeologica di alcune zone della città. Qui siamo al costone del Theater Center, su cui da mesi insistono lavori di messa in sicurezza e consolidamento. In questi giorni particolari il Comune sta monitorando i punti più sensibili, come questo palazzo in via Renazze, dove in mattinata c'è stato un nuovo controllo. Signore Eugenio, perché avete chiamato i vigili del fuoco e la polizia locale questa mattina? Cosa è successo? C'è stato un grosso botto e quindi sono caduti ancora altri caccinacci, altre piastelle, quindi siamo dovuti uscire di corsa perché questo palazzo secondo noi sta crollando da un momento all'altro. Insomma, paura? Beh, abbastanza, insomma. Uno che vive là dentro, perché i rumori non sono piccoli rumori, sono grandi rumori che si sentono. Qui o ci dicono che dobbiamo andare via oppure noi torniamo dentro, non abbiamo altra alternativa. Un peggioramento dell'edificio su cui, peraltro, il Comune aveva già attivato sopralluoghi che ne avevano evidenziato le criticità, come sottolinea il Vice Sindaco Paolo De Cesare. Quasi la totalità delle famiglie avevano sgomberato il palazzo, sono rimasti un paio di famiglie e adesso purtroppo sicuramente mi vedrò costretto a, mi confronterò con i tecnici, ma sicuramente in via precauzionale, vista la situazione molto delicata, di procedere con un'ordinanza di sgombero anche per quelle pochissime famiglie che sono rimaste. Due giorni fa, inoltre, c'è stata una riunione operativa sulla situazione maltempo presieduta proprio da De Cesare, il quale sottolinea. Chieti ha un problema tavico, un problema ben noto, quello del dissesto idrogeologico, per quella che è la sua conformazione morfologica, geografica, strutturale, del collo e della parte alta. Chiaramente con questo perdurante maltempo la situazione si è acuita in diverse zone della città e quindi dobbiamo attivare tutte le precauzioni del caso e io sono qui personalmente insomma vicino ai cittadini per cercare di trovare una soluzione. Infine l'assessore Stefano Rispoli fa sapere di aver sollecitato con una nota il Ministero dell'Interno per l'attribuzione di fondi per interventi di pulizia di fossi e canali e di messa in sicurezza di alcune zone della città, interventi che sono stati ammessi per un importo pari a 2,5 milioni di euro.